Musica Oltre che questo centro non si vorrebbe che fosse smantellato e si vorrebbe che non arrivasse altri perché un paese di 600-700 abitanti avere di già 23-24 persone insomma non è di poco conto Non c'è pace a Badia Ignano, frazione del comune di Bucine in provincia di Arezzo Dopo la raccolta firme per far tornare in paese due migranti adesso ne arriva un'altra invece per mandarli via dalla struttura di accoglienza Le polemiche si erano accese alcune settimane fa dopo che due migranti sarebbero stati visti da alcuni bambini mimare o consumare un atto sessuale Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ma intanto i 16 migranti ospiti della struttura della frazione di Bucine erano stati trasferiti a Rigutino Al loro posto erano arrivati altri 18 richiedenti asilo Ci siamo sentiti un po' presi in giro perché insomma 18 persone dopo gli episodi verificati in un paese così piccolo sicuramente non passano inosservati E da seguito del trasferimento in blocco la prima raccolta firme per far tornare nella frazione di Bucine due migranti di origine pakistana che secondo alcuni residenti si erano ben integrati in paese Il giorno sono andati via, c'erano delle signore che piangevano, c'erano persone che comunque si era affezionati Comunque avevano delle ragazze a cui si erano loro avvicinati Avevano già fatto richiesta appunto al sindaco con delle firme e i ragazzi sono stati rimandati Anche quei ragazzi andavano a giocare a palla a canestra, a palla a volo, insomma erano integrati Se la gente l'ha rivoluti vuol dire si erano comportati bene Adesso il comitato cittadino ha dato avvio ad una nuova raccolta firme per non fare arrivare più migranti a Badia Agnano Noi vorremmo un po' di tranquillità, c'era stato promesso sicurezza, telecamere, vigilanza notturna Tutto questo ancora non c'è e a noi un po' dà fastidio Poi se c'era qualche interna gradazione va bene, ci stava bene Però il numero per Badia Agnano su 800 abitanti Sapendo altre richieste oltre quella che c'è ora è tanto, è tanto, tanto Sì, è tanto